Siamo qui con Sana dopo la partita con il gotico terminata per 1 a 1 ricordiamo ci sono stati calci di rigore alla fine che hanno decretato la vittoria del gotico che serviranno solo in caso di parità. Raso avevi un cliente difficilissimo Mansur da marcare, marcato molto bene non ha segnato due episodi due falli hanno portato all'espulsione mi fai un commento comunque sulla tua partita e sulla nostra partita. Sì comunque la squadra ha giocato bene ci siamo messi bene fin dall'inizio abbiamo preso gol su una situazione su un calcio d'angolo non abbiamo concesso niente siamo stati lì bene dispiace aver preso un gol su un tiro comunque essere stato espulso così comunque abbiamo fatto la nostra partita secondo me non meritavamo il pareggio ci trovavamo qualcosa in più però diciamo gli episodi hanno fatto già la partita noi ci siamo lotteremo fino alla fine adesso si va a Castellarano martedì tu sarai col cuore con i compagni. Sì è un gruppo tutti insieme adesso ce ne andiamo a giocare altre due e vedremo. Grazie Raso alla prossima partita per Piccarlo